ciao a tutti e benvenuti sul mio canale allora oggi nuovo video questo qui è un refill fatto da una mia cliente che già in passato era venuta se vi ricordate ho fatto quello unghie blu mi pare sul colore blu e niente adesso ho deciso di utilizzare ovviamente di fare questa nell'arte insomma natalizia e sto usando questo colore sempre di passione unghie che si chiama red carpet molto molto bello molto coprente come già vedete prima passata però come sapete do sempre la seconda passata nella rullare poi ha voluto mettere dei glitter quelli fini fini le paillettes micro brillantini non so come mai chiamarli questa polverina ecco fina fina sempre sul rosso e nel pollice ha voluto applicare i tre brillantini in mezzo applicato quello più grande che si chiama che quello boreale diciamo che fa tutti i colori a quei altri due quei altri due argentati semplici infine un uta grossa di passione unghie e l'olio cuticolo io spero che questo video vi piacerà se sarà così mettete il pollice in su e niente io vi lascio a questo video e noi ci vediamo presto alla prossima un bacio ciao 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 ciao